Allora, do lettura della dedica che ho iscritto nel libro d'onore della città metropolitana di Catania. Ringrazio di cuore la commissaria con cui lavoreremo nelle prossime settimane, ringrazio con lei i commissari che l'hanno cresciuto in questo dedicato incarico, alcuni dei quali sono presenti, ringrazio naturalmente il personale della città metropolitana di Catania con cui avremo da lavorare con grande passione e con grande intensità. La dedica che ho scritto è questa, nel momento in cui mi insedio come primo sindaco della città metropolitana di Catania, rinnovo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e saluto le comunità di questo meraviglioso territorio, ricco di antica civiltà e di voglia di riscatto. Le servirò con tutta la passione e l'energia che ho nel mio cuore. Enzo Bianco La città della città riunì a Catania tutti i sindaci delle grandi città, da Rutelli a Bassolino, da Cacciari a Formentini e ponemmo la questione di governare meglio le nostre grandi città. Oggi questo sogno è diventato realtà in tutto il paese, è diventato realtà anche in Sicilia, è una grande responsabilità ma insieme a una grande opportunità. Riuscire a trasformare agglomerati di comuni, difendendo l'identità di ciascuno, in una grande squadra, in grado di competere con armi pari, con tutte le grandi città d'Italia e d'Europa, è una scommessa affascinante. Se ce la faremo, chiamerò tutti a raccolta, indipendentemente dal colore politico, sindaci di qualunque colore politico, per questa fase bellissima, costituente, per ridare fiducia al nostro territorio, che merita attenzione, e che ha grandi potenzialità, che tutti insieme dovranno riuscire a valorizzare. Il primo passo adesso. La settimana prossima riunirò tutti i sindaci metropolitani, ci daremo la conferenza metropolitana, parlerò ai dipendenti e affronteremo subito la fase di questa grande innovazione. Uno dei grandi temi è l'assetto urbanistico del nostro territorio, e cioè una pianificazione territoriale, che ci consenta di valorizzare l'opportunità dei singoli territori. Un'altra è il piano dei trasporti, della viabilità, un'altra è le grandi questioni che riguardano lo sviluppo turistico e culturale. Tutto quello che, facendolo insieme, avrà maggiore possibilità, lo coltiveremo, senza egoismi, senza spirito di campanile, ma difendendo di meditare ciascuno. Sul libro d'onore della città metropolitana è una delica intensa. Sì, perché sono sinceramente commosso. Quando si fa una cosa bella come il sindaco della propria città, si fa una cosa in cui si crede profondamente. Avverto la responsabilità, ma anche questa grande gioia. Se i cittadini ci daranno una mano, noi faremo di questo splendido territorio qualcosa di veramente unico al mondo, come è la nostra terra. Senta, sindaco, oggi è una giornata storica e in termini di storia lei è riuscita a fare qualcosa che neanche il suo maestro Peppino Giuffrida e Felice è riuscito a fare, quello di essere a capo dei due enti più importanti della città. Ma c'è una ragione. De Felice e Giuffrida era sindaco del comune di Catania e il comune di Catania corrispondeva con la città di Catania. Gravina era un'altra realtà, Trecastagni era un altro comune, Acicastella era un'altra realtà. Io sono sindaco, cento anni dopo, in una condizione in cui ormai la città metropolitana è un tutt'uno ed è inimmaginabile in questa condizione avere 25 sindaci dell'agglomerato città metropolitana e in più l'area metropolitana con realtà importantissime come il Calatino, come la zona nord, che ognuno separato dagli altri. E quindi è una responsabilità che corrisponde a un processo che è quello di urbanizzazione. Due terzi della popolazione europea vive nelle aree urbane ed era indispensabile che ci fosse questo processo di arrivamento. Non è che con questo risolveremo tutti i problemi, io non voglio generare aspettative che poi diventeranno difficilmente realtà, ma certamente cominceremo a ragionare in termini unitari, facendo squadra, lavorando insieme col sindaco di Acicastello come quello di Ramacca, con quello di Bronte, come con quello di Cattagirone, tutti insieme, individentemente dal colore politico, per fare squadra in una fase bellissima che è quella creativa, quella costituente che mi esalta. Sì, ma adesso a chi spetterà dare voce alle individualità e all'identità dei piccoli comuni? Li difenderanno tutti i piccoli comuni, questa città metropolitana non ingloba e distrugge le identità di ciascuno. Il comune di San Michele di Gansiria, piuttosto che quello di Milo, diventerà e continuerà ad avere tutti i suoi poteri. Il problema è quello di fare insieme che oltre ai poteri che riguardano quello specifico del territorio, facciamo squadra tutti insieme per giocare una grande partita. Quindi si ribalta un principio che è quello, ripeto, di fare squadra nel territorio per esaltare le potenzialità, anziché la competizione tra Milo e Valverde, che non ha obiettivamente senso. Lavoriamo insieme per fare grande il nostro territorio. Ieri il sindaco di Palermo, il sindaco metropolitano, Lelu Corlando ha detto una cosa importante, i cittadini arrivano sempre prima delle istituzioni in questo paese, si erano già cotti da tempo che l'identità metropolitana esiste, già si fa. Sì, non è un caso, ripeto, io personalmente ne parlo dal 1994, quando riunì a Palazzo degli Elefanti tutti i sindaci delle grandi città italiane, ho accompagnato questo processo da Presidente dell'Anci facendole inserire nella Costituzione, nel 2001 l'ho firmato come Ministro dell'Interno e oggi per i casi della vita indosso, insieme con la fascia bianca, rossa e verde del mio comune, quella azzurra della città metropolitana. Ora si parla a un problema, come faccio con due fasce, dovremo trovare una soluzione che ci consente di dare un'unica identità al lavoro del mondo. Scherziamo, quindi. Signor, quando il nuovo Consiglio metropolitano si inserirà, quindi quando avrà pieni poteri? Cioè quando si potrà? Il Consiglio metropolitano ce l'ho immediatamente, non devo aspettare nessun altro momento, nel momento in cui abbiamo firmato divento il Consiglio metropolitano e una parte rilevante dei poteri sono affidati al Consiglio metropolitano. La settimana prossima insedio il Consiglio dei Sindaci della città metropolitana e il 30 settembre, dopo le elezioni previste con il sistema della legge, quindi con tutti i consiglieri comunali della città metropolitana con voto ponderato eleggeremo anche l'altro organismo e quindi il primo di ottobre questa fase creativa sarà finalmente completata. Che è una fase politica e con tutti i calcoli della politica. Sì, però il sistema è un sistema che marcia, nessuno avrà il diritto di vetro, tutti insieme possiamo lavorare, mentre il sistema che stavano lavorando precedentemente era tutto ricco di sistemi di vetri fatti apposta per bloccare. Questa manovra non è riuscita, per fortuna, della nostra città metropolitana. Io penso che sia un fatto importante. Io ho voluto, sin dall'inizio, una riforma che incardinasse nel sistema siciliano l'autonomia degli enti locali. In coerenza con lo Statuto della Regione che prevedeva i liberi consorsi, ma proprio i liberi consorsi significa proprio che devono essere liberi, quindi un'autonomia legata non all'esistenza di enti intermedi che si sovrapponevano rispetto all'autonomia dei comuni e rispetto poi alla Regione, ma invece immaginare un modello in cui non ci sia più una Regione che gestisce, ma deve essere una Regione che aiuta la programmazione e controlla, perché il guaio che noi abbiamo fatto in Sicilia qual è? Una Regione ha statuto speciale e praticamente nessuno controllava questa Regione. Allora, noi dobbiamo invertire questa cosa, lasciando ai sindaci la gestione dei territori, dando loro gli strumenti per poterlo fare e nel contempo pensare a un contesto in generale in cui la Regione diventa un punto di incontro in tutte le istanze dei territori, però non una Regione che spente, che sperpera, ma una Regione invece che programma, si incontra. E' chiaro quindi, questo significava superare una serie di mentalità, perché c'era un ordinamento in Sicilia basato sullo statuto albertino, cioè che prevedeva, così come in tutta Italia, le province sulla base dei prefetti, questa era, è chiaro che i prefetti ci vogliono, ma devono avere altre funzioni, come ce l'hanno, il coordinamento reale è affidato a Sintaco Metropolitano, nel caso dei sindaci metropolitani, delle città metropolitane, al Presidente dei Liberi Consorzi in tutti gli altri casi. Però il meccanismo è questo, sono i sindaci che sono eletti dai cittadini, non abbiamo bisogno di organismi intermediari che ripetono a volte inutili servizi, cose che non servono, che invece pensiamo tutta la programmazione scolastica, ad esempio, o tutta la programmazione territoriale. Oggi immaginare un piano regolatore che si ferma a Catania, quando sappiamo che se tu esci da Catania e vai verso Messina, non capisci quando sei in un comune e sei in un altro. È chiaro che il territorio ha un bisogno di una programmazione conversiva. Io credo che questo ci allinea ai fenomeni di urbanizzazione che ci sono stati nel mondo, in Europa, e quindi con il mutamento che c'è stato anche dei flussi interni migratori, che pentono altro anche che ormai le città sono in qualche modo città dove si lavora spesso e spesso gli stessi abitanti della città magari hanno deciso di abitare proprio al confine della stessa città e quindi pensare a enti che siano più vicini ai cittadini. Un aspetto non secondario è sicuramente poi tutta la questione della gestione dei fonti, nazionali, europei, regionali, che diventano incardinati dentro un processo che non li parcellizza senza un progetto, ma invece li investe su un piano più unitario. Credo che per Catania questa sia una cosa importantissima perché è un giusto riconoscimento per la città di Catania che è una delle città più importanti del sud e quindi d'Italia. È una città, fra l'altro, che ha un dinamismo incredibile con possibilità di sviluppo. Io guardo con attenzione a una fase in cui finalmente il bilancio della Regione non ha i 2 miliardi di perdite che aveva al 31 dicembre 2012, ma al 31 dicembre 2015 ha più 637 milioni, che questo se io l'avessi detto nel mio programma che dopo tre anni saremmo riusciti a risanare i conti della Regione, qualcuno mi avrebbe fatto internare. Ci siamo riusciti. I fronti europei li utilizziamo, la sanità si avvanno a posto, pensiamo anche alle eccellenze che si stanno facendo sulla sanità a Catania, pensiamo al progetto dell'ospedale di Libino che sta andando avanti, la zona franco-urbana che abbiamo lanciato, quindi ci sono tutta una serie di possibilità nuove. È chiaro che per me è un grande giorno come lo è per bianco, con la stessa gioia, perché penso che finalmente questa città metropolitana ha un suo coordinamento, una riforma delle province che mi hanno voluto ostacolare in ogni modo, perché non bisognava dare questa soddisfazione, che tutti dicevano di voler fare da almeno 30 anni e nessuno in realtà poi quando andavamo in aula la voleva votare, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che la facevamo, l'abbiamo fatta e entro la fine dell'anno, io do tempi realistici perché bisognerà organizzarsi, eccetera, ci sarà da vedere, avremo un sistema di autonomie locali che funziona veramente nel rispetto dello statuto siciliano che dà un ruolo importante ai comuni, alle città e ai territori. Grazie.